Diciamo che io ho portato rispetto alla Cavese presentandomi qua con tre attaccanti a differenza di quello che magari qualcun altro poteva pensare che si veniva qui a fare le barricate noi abbiamo difeso ordinatamente qualsiasi attacco tra la Cavese siamo ripartiti quando c'è stato da ripartire ma non abbiamo punto in maniera decisiva e convinta secondo tempo inizi con atteggiamento positivo primo calcio d'angolo l'ennesima dormita difensiva da parte nostra perché sono tre partiti che puntualmente ci dimentichiamo di marcare gli avversari e ci puniscono dopodiché ci siamo riversati abbiamo provato a creare qualcosa ci siamo presentati 3-4 volte sull'esterno per mettere la palla in mezzo sapevamo che avevamo i due attaccanti che potevamo sfruttare però abbiamo sbagliato qualsiasi tipo di cross e questo non è accettabile da parte dei miei ragazzi non è accettabile da parte mia perché le settimane si lavora si lavora tanto si fanno enormi sacrifici e anche oggi al cospetto della capolista siamo venuti qua ripeto e ce la siamo giocati a viso aperto non abbiamo concesso nulla alla Cavese se non il primo tempo dove comunque abbiamo sofferto quei dieci minuti ma siamo stati bravi a non capitolare di conseguenza per il secondo tempo ahimè c'è stata quest'ennesima disattenzione difensiva che ci fa commentare un'ulteriore partita amara per noi i presenti diciamo che hanno sempre ragione però c'è da dire che noi in questo momento siamo accorti c'è poco da fare siamo contati nel parco Under perché abbiamo avuto alcune defezioni tra cui quella di Taurino che poteva essere un'arma in più per quanto riguarda il reparto offensivo però chi ha giocato ha provato in ogni modo a dar fastidio e a creare qualcosa alla Cavese siamo ripartiti due o tre volte anche con l'ultima scelta le scelte sono state sempre un po' frettolose e sbagliate vedi la ripartenza che abbiamo avuto con Carrullo si è allungata la palla ci siamo presentati tre contro tre quindi potevamo sfruttarla anche diversamente ahimè non è andata come noi speravamo però ripeto c'è un grande rammarico perché si è fatta non una partita difensiva perché comunque alla fine la Cavese se lì il capolista merita ha una grossa squadra ha potuto giostrare i cambi a proprio placimento ripeto noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare abbiamo preparato la partita così però non siamo stati premiati su qualche occasione che abbiamo creato perché sono i risultati in questo momento credo che la Cavese sia la favorita c'è poco da fare comunque ha una grossa spinta da parte del pubblico il pubblico che partecipe è sempre quello che ti crea una motivazione in più ci sono tutti gli elementi per poter puntare alla vittoria del campionato certo la strada è ancora lunga però è la candidata principale gol con le poche occasioni che si creano bisogna sfruttarle bisogna calciare per bene i piazzati bisogna calciare per bene le palline attive perché sono fondamentali bisogna sfruttarle al 100% perché poi magari arrivi a Cava e giustamente non puoi creare o perlomeno riesci a creare diverse palle gol diverse azioni da gol quindi quelle 4-5 occasioni che abbiamo avuto da pallaferma le dovevamo sfruttare sicuramente meglio e quindi serve il gol in questo momento al Bitonto serve avere ancora più attenzione di quella che si ha guarda noi l'abbiamo impostato in questa maniera noi sapevamo del valore della Cavese quindi abbiamo fatto la scelta di poterli schermare aspettarli un attimino sulla tre quarta e poter ripartire con Chiara Dio e Palazzo e le mezzali ripeto abbiamo fatto una grossa fase difensiva nel primo tempo siamo mancati un po' nelle ripartenze questo bisogna dirlo abbiamo creato un paio di occasioni solo nel primo tempo però ripeto la Cavese è sempre stata attenta nelle preventive quindi il primo tempo è andato un po' come ha detto lei il secondo tempo invece dopo il gol gioco forse dovevamo provare sicuramente qualcosa ci siamo riversati abbiamo rischiato di prendere anche il secondo gol però i ragazzi sono stati veramente eroici nel ripiegare nell'evitare che ci desse ancora un po' più speranza fino alla fine come è stata però ripeto dobbiamo essere molto più cittivi quando c'è da poter sfruttare qualcosa che possa creare almeno qualche grattacapo di più alla squadra avversaria la società sicuramente sa quello che c'è da fare noi dobbiamo essere bravi in questo momento a fare quadrato tutti quanti società, gruppo, squadra e tifoseria perché sapevamo che magari quest'anno il Bitonto ha ridimensionato un po' i programmi però non ha fatto una squadra per retrocedere ha fatto una squadra per navigare in acque tranquille però non gira come speravamo sappiamo che bisogna intervenire la società sa che bisogna intervenire per garantire alla squadra almeno un po' di qualità in più nel reparto avanzato e bisogna sperare noi dobbiamo sperare che la buona sorte ci dia anche una pacca sulla spalla perché in questo momento tra infortuni e squalifiche non ci gira non ci gira non ci gira fortuna poi è anche riduttivo parlare di fortuna perché come dico sempre io la fortuna è quando tu incontri un'opportunità e hai le qualità tecniche allora la sfrutti e a volte noi manchiamo nel terzo offensivo e quindi sappiamo quello che c'è da fare grazie noi siamo stati ripeto noi siamo venuti qua e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare al cospetto della capolista al cospetto di una squadra che ha investito in genti somme economiche si può permettere di tenere in panchina diversi elementi anche di categoria superiore basta vedere la panchina nostra eravamo solo con un senior ma fei e tutti under ma ripeto non è una giustificazione o una scusante noi in questo momento siamo questi dobbiamo cercare di recuperare quanto prima gli over che in questo momento sono infortunati e quando ci sarà il momento di fare quelle scelte giuste non le dobbiamo sbagliare però bisogna arrivare a fare quelle scelte giuste sicuramente con più di qualche punto in più di quello che abbiamo e che sicuramente meriteremo fino a dicembre no no nessun messaggio ripeto la società sappiamo noi quello che c'è da fare la società è è vicina quotidianamente con noi sa quello che va e quello che magari non va puoi concedere a chiunque tre over come Lucchese Gianfredo Taurino fate voi un po' insomma tirate voi due conti fate voi due conti e poi mi dite qualcosa ripeto ma non è una scusante è una giustificazione noi abbiamo dato tutto i ragazzi hanno dato tutto quello che c'era da dare e siamo stati puniti su un'ulteriore amnesia difensiva ok grazie